Amore, se mia madre ti chiede come ha cucinato, di lei che è buono, ma che cucino meglio io, eh? È buono, ma cucini meglio tu. Allora, che hai fatto per pranzo? Allora, ho fatto rigatoni con crema di zucchine, prosciutto e crema di funghi. Mmm, buoni. E questo gli ti assaggia subito, perché cali, cali, capi nè? Allora, come sono? Com'è? Ma se dico che sono buoni, si arrabbia la figlia. Dai, amore, dillo come sono. Però se dico che sono cattivi, si arrabbia la mamma. Ce l'ho. Buoni, buoni. Però mi madre gli fa meglio.